Non è perché una si avvicina al microfono deve per forza dire qualcosa, si avvicina al microfono Non è perché una 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 si avvicina al microfono Siamo disponibili per foto, cartoline, ragazzi e maxi ci avrei stampati in situazioni migliori Oh ma vi fate sentire oppure facciamo i morti che camminano One, two, three, four, Sanze! 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 Oh ma vi fate! 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 Ciao ci! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.